Buongiorno a tutti, oggi preparo una mermendata di more di romo. Ora andiamo a raccogliere le more. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi raccoglio. Un chilo e mezzo di more, 500 grammi di zucchero e limone. Metto lo zucchero nelle more. Mi mescolo. precedentemente ho lavato il limone rimescolo bene così lo zucchero si scioglie un po' ora vi lascio macerare almeno per otto ore intanto faccio sterilizzare i barattoli e i coperchi dopo otto ore la vado a cuocere la verso in una pentola metto il succo di limone e ora la vado a cuocere la facciamo bollire con l'emore di rovo un odore spettacolare dopo 20 minuti di cottura la frullo una volta frullata la lascio cuocere per altri 10 minuti vedete che bella spettacolare passati i 10 minuti la vado ad invasare puliski borti una volta riempito metto il taco chiudere bene i tappi ora la lasciamo raffreddare una volta raffreddate le vado a conservare in luogo fresco e asciutto grazie della visione, alla prossima iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace grazie a tutti